Un saluto dal Tg della Mobilità in Prati, set cinematografico a Via Oslavia con chiusura della strada all'altezza di Piazza Mazzini e deviazione per le linee di bus 69D, 280, 301 e 628. Le altre notizie dalle 15 all'Olimpico Roma-Genoa, possibili rallentamenti attorno allo Stadio Olimpico nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Da lunedì prossimo 7 febbraio saranno riaccese le telecamere di controllo a presidio della corsia preferenziale di Via Nazionale. Rileveranno i transiti non autorizzati.